forse vi starete chiedendo perché penso che questa immagine sia il peggiore degli incubi in realtà non lo è se non in un caso che dobbiate stamparla non sulla vostra stampante professionale con 13 cartucce d'inchiostro ma in tipografia in altre parole pensate di doverla mettere in un libro questo significa che prima o poi dovrete convertirla in CMYK e il divertimento inizia lì nell'esempio precedente la skyline di seattle abbiamo fatto un giro in CMYK e abbiamo constatato che era sicuro vediamo cosa succederebbe qui menu visualizza avvertimento gamma perché i fiori sono diventati grigi questo è photoshop che vi dice attenzione alcuni dei colori in questa immagine non saranno riprodotti fedelmente in CMYK alcuni è un eufemismo in questo caso in pratica tutti i fiori sono fuori gamut photoshop non è molto selettivo su questo aspetto vi dice se il colore è critico o meno ma non vi dice quanto potremo essere abbastanza fortunati da avere colori così poco fuori gamut che convertendo nessuno se ne accorgerebbe ma come facciamo a saperlo quello che dobbiamo fare è disattivare avvertimento gamma e attivare invece prova colori avete notato che i colori cambiano proviamo ad alternare il comando da tastiera è command y originale rgb simulazione CMYK rgb CMYK niente di bello direi abbiamo un bel problema di gamut in questo caso e questo è un incubo per chiunque lavori nel settore prestampa perché implica alcune cose la prima è che perderemo un'enorme quantità di colore per strada a causa del fatto che il luogo in cui ci rechiamo CMYK è molto più piccolo di quello che stiamo per lasciare ad ob rgb lasciate che vi mostri una cosa in questo file che è una simulazione di conversione a sinistra avete una delle tonalità campionate da uno dei fiori è un magenta brillante e vivace a destra invece il colore che verrebbe stampato gli inchiostri CMYK e il magenta in particolare in questo caso non possono essere saturi e brillanti allo stesso tempo guardate questo quadrato questo è il magenta più saturo che possiamo creare in CMYK è molto più saturo di entrambi i campioni sottostanti ma è anche molto più scuro si può rimediare a questo problema no gli inchiostri sono inchiostri e dobbiamo conviverci nel mondo della tipografia questo è ciò che avrete ed è anche il fondo del barile se preferite una volta che l'avete raggiunto non c'è più modo di scavare il secondo problema è se possibile peggiore una volta che avete accettato di bere dall'amaro calice che perde colore magari vorreste mantenere almeno il contrasto spiacente è impossibile guardate questo dettaglio ad esempio questo è rgb questo è CMYK app se guardate attentamente vi accorgerete che non solo la saturazione è andata a pranzo ma alcune aree hanno perso definizione questo accade perché sfumature minime vengono schiacciate l'una contro l'altra un paragone famiglia enorme casa piccola qualcuno dovrà dormire nello stesso letto di qualcun altro il terzo problema non posso mostrarvelo ma potete fidarvi della mia parola una volta che l'inchiostro arriva sulla carta i problemi che avete simulato saranno peggiori molto peggiori e a volte orrendamente peggiori c'è un modo standard e molto triste di aggirare questi guai ed è un modo anti intuitivo potreste pensare visto che dobbiamo perdere saturazione se aumentiamo la saturazione in anticipo riusciremo a mantenere un po di più bene dimenticatevene se volete che i vostri fiori stampati assomiglino a un poster di Andy Warhol questa è la strada giusta dovreste fare semmai l'opposto desaturare prima di convertire perché facile state per perdere comunque litri di colore e di conseguenza di contrasto quindi desaturate i colori prima cercando di mantenere il contrasto prima di mostrarvi come si fa devo preparare alcune cose che ci serviranno poi per prima cosa una conversione diretta di questa immagine in cm yk questo è il passo facile duplichiamo l'immagine rinominiamo la cm yk diretto e usiamo menu immagine metodo cm yk oppure converti in profilo se siamo esperti otteniamo questo ora torniamo al file originale attiviamo l'avvertimento gamma così potrete vedere le aree dove i fiori hanno problemi creiamo un livello di regolazione luminosità saturazione e scegliamo immagenta ora desaturiamo selvaggiamente vedete che mentre trascino il cursore le aree critiche si riducono perché certi colori rientrano nel gamut cm yk sappiamo che il problema è dato da un misto di saturazione e luminosità quindi scurire il tutto potrebbe aiutarci abbiamo deciso di lavorare solo su immagenta quindi le foglie non verranno influenzate dalla manovra non voglio buttare fuori qualsiasi colore fuori gamut dell'immagine ma solo tenere il tutto un po sotto controllo quindi una volta che arrivo in una situazione simile a questa posso dichiararmi soddisfatto ora disattiviamo l'avvertimento gamma e vediamo la differenza questo è l'originale e questa è la versione con i fiori desaturati e scuriti indubbiamente è una fotografia diversa ma dovremo conviverci purtroppo ora la cosa interessante prova colori la differenza tra le due versioni è ovvia quella che abbiamo desaturato non è tanto meno satura dell'originale ma ha molto più dettaglio questo perché accade il motivo è che la famiglia è più piccola ora e anche se la casa è ancora piccola ci sono meno persone costrette a dormire insieme quindi convertiamo anche questa duplichiamo il file chiamiamolo cm yk desaturato appiattiamo l'immagine in modo che la desaturazione venga applicata e convertiamo adesso devo confrontare quella che stiamo vedendo è la versione desaturata e voglio verificare se è in qualche modo migliore di quella diretta quindi prendiamo il file cm yk diretto e desaturato io vedo più dettaglio e contrasto in questa e più ne ho più sono sicuro che qualcosa di decente uscirà una volta che il lavoro andrà in stampa diretto desaturato accettabile per me ma c'è una nuova e recente idea che ci è venuta vi faccio vedere un file che contiene tre livelli li ho messi assieme per semplicità questo è la conversione diretta questo la conversione con pre desaturazione e qui abbiamo alce 50 applicato alla conversione diretta per me questa è di gran lunga la versione migliore la mia unica critica è che le foglie sono troppo evidenti ma abbiamo una via di fuga molto semplice maschera di livello e applichiamo il canale del can dal livello inferiore le foglie sono necessariamente scure nel can e i fiori essendo magenta sono necessariamente quasi bianchi non credo che sfocare la maschera sia critico in questo caso ma male non farà una sfocatura gaussiana a 20 pixel dovrebbe bastare vi ricordo che qui siamo in cm yk quindi nessun colore può in alcun modo essere fuori gamut quello che generiamo è stampabile per lo meno in linea di principio verifica finale la conversione diretta la conversione pre desaturata con un po più di contrasto e dettaglio e alce 50 applicato alla conversione diretta io non ho dubbi userei l'ultima se mi dite che è un'altra immagine rispetto all'originale rgb è vero ma vi rispondo che questo accadrebbe per qualsiasi conversione in cm yk di questa immagine che possiate pensare di realizzare e a quel punto io userei quella che ha più contrasto e dettaglio abbiamo voluto fare questo esempio per chi si occupa di prestampa perché certamente è più interessante per loro che per i fotografi ma la verità è che stiamo ancora cercando nuove applicazioni per alce e questo è un campo ancora non del tutto esplorato ad esempio una questione aperta sarebbe sensato applicare alce prima della conversione la risposta è sì ma se chiedete quale dei due flussi di lavoro funziona meglio non abbiamo una risposta non ancora tutto questo per dire che vi suggeriamo di restare sintonizzati e verificare se nuove tecniche emergono nelle prossime settimane o mesi se sarà così se sono affidabili e interessanti saremo solo felici di mostrarvele grazie a tutti